Uno dei grandi protagonisti di questo festival d'Argent Amico, ciao! Buongiorno, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Che poi alla fine qui è buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, lo spazio è un po' indefinito. Sì, si sospende tutto al festival di Sanremo. Non si sospende invece l'ammirazione nei tuoi confronti, questa canzone è veramente molto molto bella. Grazie, grazie. Ci vuoi raccontare come è nata? Dai, raccontalo anche agli amici di Radio Bruna. Allora, la canzone nasce da uno sguardo che è facile lanciare sul territorio, sulla culla della nostra civiltà, cioè dove tutto è nato, dove tutto è arrivato qui, il mar Mediterraneo. Nasce dall'intenzione di trovare una sintesi organica tra i punti di vista. C'è all'interno del brano sicuramente il punto di vista di chi vede arrivare dalla riva all'onda alta e altrettanto è il punto di vista di chi è sull'onda alta e cerca, spera di vedere la riva. Infatti è un messaggio molto importante, toccante, però con dei ritmi che ti trascinano nel ballo, nel muoverti. È quello il bello. Sì, è un brano, diciamo, movimentato in cui c'è una pulsazione che è sia quella ritmica ma anche quella proprio del cuore. È l'espressione del movimento delle persone con il movimento della ritmica. Voltiamo un po' pagina. Tu proprio ci tieni tantissimo al Fantasarremo. Fai di tutto, sei proprio il numero uno. No, non solo il numero uno. Fino a ieri lo eri, eh? Cosa è successo? Allora, ci tengo, adesso questo mi sembra un parolone. Diciamo che so che molti ci tengono e quindi mi piace andare incontro alla sensibilità delle persone. Questo però non deve superare i limiti della decenza. Io fortunatamente, nascendo indecente, ho questa marcia in più. Infatti. Invece per quel che riguarda le cover di venerdì hai già fatto le prove ma ci emozionerai tantissimo con questo maggio. Non lo so. Sulla carta è un'ottima idea e poi bisogna vedere come si realizzerà nella pratica. Però diciamo che io ci metto il mio impegno e poi la fortuna è avere la possibilità di attingere al serbatoio infinito di proposte melodiche musicali di uno dei, forse il più grande rappresentante della musica italiana dell'ultimo secolo che è Ennio Morricone. Ho la compagnia strutturata, strutturale della Babbel Nova Orchestra che mi aiuta a raccontare da un altro punto di vista con un brano che appunto è tratto dalla leggenda del pianista sull'oceano. Quindi un film che tratta la vita in mare, raccontare da un altro punto di vista il tema della canzone in gara. Hai avuto modo negli anni passati di poter assistere a un concerto del maestro, di conoscerlo, qualcuno della famiglia, insomma ti ha ringraziato per questo omaggio? No, ma giustamente anche nel senso che credo che intanto bisogna vedere come va a finire questa cosa, lo scopriremo solo vivendo. Poi però no, non ho mai avuto occasione di conoscere il maestro di persona, conosciamo tutti la sua musica, fa parte del nostro patrimonio, quindi questa è forse la conoscenza più profonda che si possa fare. Guarda, io ho avuto la fortuna di intervistarlo e lo dico perché aveva la semplicità di spiegare la musica e di spiegare il suo messaggio. E noto questo aspetto in te, cioè messaggi importanti spiegati però a tutte, a tutte le generazioni in una maniera semplice e diretta. Poi vedete voi che cosa fare. Questo vi accomuna nella semplicità del messaggio che però è difficilissimo da fare? Non lo so, io cerco di esprimermi utilizzando le sensazioni che poi sono quelle che ci accomunano perché la cosa più semplice è tentare di mettersi nei panni dell'altro e in qualche modo cercare nell'altro se stessi che è anche quello che facciamo quando cerchiamo l'altro in noi stessi. In quel momento avviene questa sintesi che anche nel brano ho cercato di fare tra i nostri punti di vista. Come fai a mantenere la concentrazione in questo frullatore che è la settimana di Sanremo? Non sono per niente concentrato. Come te la stai vivendo? No, me la vivo bene. So che intanto sono diciamo un affezionato della dinamica del festival perché lo seguivo da quando ero piccolo e fa parte appunto un po' del nostro patrimonio genetico. è stato sempre un modo in qualche modo per conoscere, per saggiare, per testare lo stato della musica in quell'anno. In particolar modo poi queste edizioni con Amadeus che salutiamo, che so che ci sta guardando, sono un'occasione proprio per avere una fotografia tridimensionale della musica italiana oggi. Quindi per me è un onore essere qui oggi a fare il mio e cerco di farlo al massimo delle mie possibilità. Poi certo siamo esattamente in un frullatore quindi non è che sei sempre lucidissimo, fortunatamente forse anche, perché se fossi veramente lucido è difficile rendersi conto e tenere la barra del timone dritta per continuare a utilizzare delle metafore marinaresche. Ma fermami perché ho questo piccolissimo problema che quando comincio a parlare poi non mi fermo io. A me piace comunque. E dopo Sanremo invece ti ferma qualcuno, ti stoppi, continui? Mi fermo io, mi fermo io. Adesso capiamo, cerchiamo di arrivare a Domenica che è così vicina ma è tutto molto relativo e poi dopo di che ci fermiamo un attimo e capiamo del nostro futuro, sempre vissuto presente per presente. Senti, l'ultimissima domanda. Hai parlato di te, bambino, che guardava il Festival, una canzone che ti ricordi, che magari ti ha ispirato anche. Ispirato? Non so se tutto ti ispira, no? Perché tutto quello che assumi musicalmente poi diventa parte di te. È impossibile qualsiasi canzone tu ascolti, anche se l'ascolti in maniera disinteressata, anche disincantata, anche disilluso, però diventa parte di te. Sicuramente ci sono state delle grandissime esibizioni che mi hanno impressionato da piccolo. Potrei citare il paio di interventi di Giannaccia a questo Festival. Assolutamente. Grazie. Grazie mille a Dargent Amico. Grazie. 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 Grazie.